Quest'anno Naturalia Bau porta in fiera un tema importante che è la salubrità all'interno dell'edificio, salubrità coniugata con dei materiali che ci permettono di vivere meglio, dei prodotti basso emissivi, cioè prodotti che evitano di portare in casa inquinanti degli edifici che ci permettono di vivere meglio, cioè ci permettono di rendere il nostro nido abitativo effettivamente un edificio all'interno del quale andare a vivere, quindi utilizzo di prodotti a base di fibra di legno, di Pavatex, utilizzo di argille sull'interno che sono le stesse argille che andiamo ad utilizzare anche in ambito medico e curativo in diverse soluzioni di intonaco, di pannello o d'altro, questo poi diventa una scelta tecnica che dipende dall'intervento che possiamo e dobbiamo fare nel nostro edificio.